Suono, immagine, parola, elementi che si contaminano tra loro guidati dalla mano, dalla creatività, dall'ispirazione dell'artista che li lavora. È così che prende vita una melodia, una poesia, un dipinto, una suggestione. Sono Raffaele Pè, sono un cantante lirico e il mio mondo sonoro è il barocco. Ho intrapreso un viaggio per l'Italia alla scoperta di questo genere affascinante, dalla letteratura alla pittura, dalla musica classica al pop fino alla botanica. Sono tanti i racconti degli artisti che con gli occhi del presente si lasciano ispirare dal barocco e dalla sua musica straordinaria. E ogni giorno lo reinventano cercando una risposta alla domanda Barocco è... Barocco è...